Sono le 9.30 spaccate quando l'auto con Giuseppe Conte varca il portone del Quirinale. Pochi istanti ed eccolo che attraversa i corridoi che lo introducono al cospetto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alla fine dell'incontro, il grande annuncio. Buongiorno a tutti. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ringrazio, mi ha conferito l'incarico di formare il Governo. In carico che ho accettato con riserva. Oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari e all'esito di questo confronto mi dedicherò a elaborare un programma insieme alle forze politiche che hanno spresso il loro sostegno a favore di questo nuovo progetto politico e che desidero sin d'ora qui ringraziare. È il primo atto del Governo targato Movimento 5 Stelle e PD. Un'alleanza pentademocratica che adesso verrà sottoposta al vaglio della piattaforma russo, come ha annunciato Di Maio su Facebook. Dunque la partita ufficialmente è ancora aperta con Giuseppe Conte che ha accettato con riserva l'incarico di formare un Governo che dovrà affrontare subito la manovra economica. Il vero problema non sono le consultazioni, il vero problema è che abbiano dato l'incarico a Conte e che si vada nella direzione di dar vita a un Governo sostanzialmente gestito e rappresentato da chi ha perso le elezioni e da chi gli italiani non li ha votati. Adesso le grandi riforme, le grandi opere passano nelle mani di un Governo che ha un'altra pelle, un'altra sensibilità e c'è da chiedersi se e quale autonomia potrà mai essere varata dai pentastellati che fino a oggi hanno solo frenato e dal Partito Democratico che non l'ha mai sostenuta. E sappiamo che avremo a che fare con il PD al Governo, non so se addirittura avranno anche il Ministro di Riferimento per l'Autonomia, che è lo stesso PD che ci ha fatto un ricorso avanti la Corte Costituzionale per vietare ai Veneti di andare a fare il referendum. è lo stesso PD al Governo con Renzi che impugnò il nostro referendum, è lo stesso PD che ci vietò l'uso della tessera elettorale durante il referendum, è lo stesso PD che promuosse i ricorsi al Tare e così via. Quindi sappiamo già che il terreno sarà impervio, però comunque noi andiamo avanti, andiamo avanti anche perché guardi, l'autonomia, nel bene o nel male, prima o dopo arriva. Come abbiamo portato a casa grandi risultati, porteremo a casa anche questo.